Notte movimentata per un incendio in via Bassano del Grappa a Bolzano scoppiato poco prima delle 4 e 30. Il erogo ha interessato anche parte dell'abitazione e due persone sono rimaste ferite. A lanciare l'allarme è stato un passante. Sul posto sono intervenuti prontamente gli uomini del corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano. L'incendio scoppiato sul balcone del terzo piano si era già propagato pericolosamente anche all'interno dell'appartamento. Alcune persone del condominio avevano già abbandonato la propria abitazione. Due inquilini sono invece stati recuperati nella sicurezza dei pompieri e assistiti dalla Croce Rossa. Sono rimasti intossicati dal fumo. In pochi minuti i vigili del fuoco hanno domato il erogo e quindi anche i danni sono stati tutto sommato abbastanza contenuti. Sul posto una pattuglia dei carabinieri.